cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo previsioni per sabato 20 agosto sul veneto le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una residua variabilità con cielo localmente sereno o poco nuvoloso durante la giornata il tempo sarà stabile e sereno soprattutto in pianura mentre nelle zone montane sono attesi addensamenti nuvolosi che potrebbero portare a locali piovaschi in serata temperature minime stazionarie comprese tra i 19 e i 21 gradi massime tra i 28 e i 32 gradi sul friuli venezia giulia cielo variabile sulle aree montane con possibili locali rovesci o temporali nel pomeriggio in pianura in genere poco nuvoloso con ampie schiarite a partire dal pomeriggio temperature minime sui 19 e 20 gradi massime comprese tra i 29 e i 31 gradi sul trentino alto adige tempo in prevalenza soleggiato con possibilità di velature sparse nelle ore più calde della giornata temperature minime intorno ai 18 gradi massime sui 30 e 31 gradi dal meteo di antenna 3 è tutto arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago grazie per la visione grazie per la visione